Cari lettori, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo tra i misteriosi segreti dell'Urs degli anni 90. La scomparsa del padre dell'autrice, la fa viaggiare verso la città segreta di S45 dove si costruiva l'arsenale nucleare sovietico. Questo thriller autobiografico titerrà con il fiato sospeso fino alla fine, mentre Natasha naviga in un'epoca di transizione e sperimenta la fine di certezze consolidate e l'arrivo di nuove libertà. La trama del libro Ritorno nella città senza nome di Natasha Stefanenko, edito da Mondadori, è la seguente. Papà non torna a casa da giorni. Stop. Niente di grave. Stop. Ma io e la nonna siamo molto preoccupate. Stop, cerca di rientrare prima che puoi. Stop. La nonna ti aspetta. Stop. Dopo aver ricevuto un'allarmante comunicazione di sua madre, Natasha si precipita alla stazione Yaroslavskij di Mosca per salire sul treno notturno 572 diretto a Nord sa che qualcosa di terribile è già accaduto. Suo padre Sergei, ingegnere nucleare e convinto sostenitore della politica sovietica, è improvvisamente scomparso senza dare notizie di sé. Il presentimento che la sparizione del padre nasconda verità che non devono essere svelate e l'opprimente sensazione di essere pedinata l'accompagnano per tutto il viaggio fino a Sverdlovsk 45, la città dove Natasha è nata e cresciuta. S-45 è un luogo che per ragione militare non appare sulle carte geografiche, circondato da filo spinato e sottoposto al controllo del governo federale. È un luogo strategico dove si lavorava alla costruzione dell'arsenale nucleare sovietico e ora, con i nuovi accordi voluti da Gorba e Veregan, al piano di progressiva dismissione delle armi atomiche. Pur muovendosi con intraprendenza nella sua città natale, le indagini di Natasha giungono presto a un punto morto. Solo quando arriva Alex si aprono due nuove piste, la prima, legata al padre, la riporta a Mosca, la seconda la porta a intessere un'altalenante relazione d'amore con l'ambiguo Alex. Con l'intreccio delle due storie, largamente autobiografiche e ad alto tasso thrilling, Natasha Stefanenko ci racconta l'anima di un paese grande, inquieto e disorientato, l'urs degli anni 90, che vive la fine di consolidate certezze e anche la dirompente irruzione di nuove libertà. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.